Juventus Inter è storia direbbe anzi lo dice il telecronista a fine partita ed è storia anche nella realtà e finalmente finalmente dopo non so quanto tempo torniamo a parlare di Juventus Inter come di storia vera e propria quant'è? Dite la verità quant'è che non sentivate un derby d'Italia in questo modo qua? Regà la pressione per farvi capire l'ho sentita anch'io e l'ho sentita io che sono romanista cioè che comunque amo il calcio parlo di calcio però io la fede ma è come ho fatto a sporcare gli occhiali? Io la fede la metto solo dove c'è la Roma poi per il resto parlo di calcio in modo completamente oggettivo e negli ultimi anni nonostante comunque Juve e Inter abbiano sempre fatto diciamo prestazioni e campionati molto importanti la Juventus ha vinto tanti campionati di fila l'Inter ha vinto un campionato due o tre anni fa l'ultimo l'ha vinto il Napoli quello prima l'ha vinto il Milan quindi quello prima l'ha vinto l'Inter e diciamo però che al di là di questo non c'è stato ancora non c'era più stato un momento così un momento catartico no? Un momento che segnava senza possibilità di è però no però un punto di svolta nel campionato non c'era oggettivamente non c'era stato oggi oggettivamente c'è stato oggi c'è stato perché la Juventus e l'Inter arrivavano praticamente appaiate in classifica in realtà una precedeva l'altra di un paio di punti era veramente poca era veramente poca la differenza tra la Juventus e l'Inter per quanto riguarda la classifica certo la Juventus lo diciamo in ogni video è giusto che sia così portata avanti anche dal fatto che non ha le coppie europee perché giocare una volta a settimana sicuramente aiuta voi direte perché poi lo so che il disco... aspetta facciamo una cosa andiamo per gradi perché mi sono già dimenticato prima di iniziare mi fate un favore sacrosanto proprio sacrosanto sacrosanto questo qua regà se domani se entro domani mattina arriviamo a 496.000 iscritti domani vi porto le pagelle della Juventus e dell'Inter 496.000 iscritti ci vuole niente regà sono veramente 80 iscritti cioè potete farli li voglio fare le pagelle per quello vi metto questo paletto però facciamolo oggi facciamolo adesso sbrigatevi pure se vi va detto questo vi stavo dicendo so che voi so cosa state pensando voi e un po' vi capisco no senza poi ragionare tutto quello che c'è dietro e vabbè sic stai a fa tutto sto macello ma poi alla fine della fiera quante partite in più ha giocato al momento l'Inter rispetto che la Juventus tre tre so tre no quattro 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 le Champions League sì sicuramente sì però non sono le quattro partite perché se tu queste quattro partite me le metti in un mese in un in nelle due settimane di pausa non penso che facciano così tanto la differenza il problema sono le partite perché la Champions League ha bisogno di una determinata attenzione perché sbagliare in Champions League pesa il quadruplo rispetto che sbagliare in campionato perché tu ti puoi permettere di fare turn over in campionato ma non di farlo in Champions League quindi l'Inter c'ha due squadre quando si parla di turn over certamente non stiamo qui a dire che comunque soffra così tanto il turn over entra uno esce l'altro poi dopo anzi ve lo dico subito ma tanto ve lo dico sempre l'Inter Momo ci ha rotto Pavard ma Pavard entra Pavard esce Darmian c'è Defrae se non c'è Defrae c'è Acerbi se c'è Acerbi magari non c'è come cazzo Bissec se invece capita che quel giorno non c'è Bissec l'Inter si sveglia e tira fuori i bastoni se non c'è bastoni e quello è il discorso sostanzialmente quello è il discorso quindi anche se poi l'Inter fa un e ne avevo parlato in un video precedente in cui vi dicevo appunto sta cosa del turn over avevo parlato dopo di questa cosa vi dicevo l'Inter non fa turn over e qualcuno mi dice ma come no ne mancano quattro dei titolari raga se l'Inter toglie quattro super titolari e mette quattro super sub non è turn over ok quindi di base l'Inter spesso in campionato ha comunque dovuto lasciare un pochino andare per la Champions League questa cosa la Juve non la fa però la Juve sulla carta secondo me è mio avviso mio punto di vista non ha la rosa della Juve ma nel dell'Inter ma nemmeno lontanamente e non è fatta non è stata costruita nemmeno per fare quello che deve fare l'Inter cioè l'Inter diciamolo con grande chiarezza ma non per dare pressioni a chi non le vuole eccetera l'Inter se non vince lo scudetto ha fallito poi non vuol dire che Inzaghi deve andare via non vuol dire nulla però se l'Inter non vince lo scudetto non ha raggiunto l'obiettivo iniziale se la Juve non vince lo scudetto ma arriva la seconda l'ha preso in pieno l'obiettivo iniziale anzi con anche più di quello che effettivamente gli si chiediva sulla carta diciamolo con grande chiarezza perché questa è la verità perché questa è la verità e per questo vi dico che Allegri sta facendo un gran lavoro e anche oggi per come si presentavano sì è vero che all'Inter mancavano Bastoni, Pavard e Sanchez ma l'Inter ragazzi a parte che Sanchez manca il titolare e gioca veramente col contagocce ma mancano Bastoni e Pavard l'Inter ti si presenta con Darmian, De Frey e Acerbi cioè la difesa che lo scorso anno ha guidato per gran parte l'Inter alla finale di Champions League di che cosa stiamo parlando? La difesa che per lungo tempo ha zerato il Manchester City che non ha fatto da un pallone a Erling Brautoland cioè di che stiamo parlando mentre dall'altra parte se alla Juventus mancano calciatori da una parte sicuramente importanti dall'altra alcuni anche un po' più umili perché comunque magari ti manca Danilo è importante ti manca UEA è abbastanza importante però un po' meno Pogba e Fagioli per doping cioè un singhiozzo pure per la squalifica però comunque sono assenze che pesano perché la Juve con Allegri ha dovuto rispolverare Daniele Rugani e questa è fattuale e Rugani sta facendo un'ottima stagione Gatti è diventato proprio un punto cardine dietro Cambiaso sulla fascia ha dovuto prendere una consapevolezza che prima non aveva McKennie che era sul mercato fino all'altro ieri è titolarissimo di questa Juve Nicolussi Caviglia ragazzi oggi giocavo a titolare Nicolussi Caviglia cioè mentre ve lo dico Juve giuro che mentre ve lo dico mi pulisco gli occhiali perché mi stanno bruciando gli occhi con quel ciuncicchio di mezzo Nicolussi Caviglia e ora ne parliamo fatto sta che è questo per dirvi che Allegri fa comunque un grande lavoro e se la Juve arriva attaccata all'Inter è perché sono più sporchi di prima è perché Allegri fa un grande 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 lavoro che ripeto farlo è importante gli si fanno i complimenti ma se non lo stesse facendo nessuno gli punterebbe il dito contro detto questo però è la Juventus ad andare avanti e la Juve va avanti un po' a grande sorpresa perché è abbastanza una sorpresa il fatto che la Juventus vada avanti nel risultato secondo me è meno forte però a Torino c'era quell'idea lì quella possibilità lì ci si poteva ritagliare quella partita lì e va avanti la Juventus con Chiesa che vede l'inserimento di Dujan Vlaovic all'indietro perché Chiesa lì può dare il pallonino avanti e lì sarebbe stato inutile perché il pallonino avanti l'avrebbe preso la difesa dell'Inter ma Chiesa è molto intelligente e in questo momento secondo me è maturato fino a diventare uno dei calciatori più intelligenti e più forti del nostro campionato la palla la dà un pochino dietro la dà un pochino dietro arriva Vlaovic che impatta il pallone la butta dentro ed è il gol del vantaggio lì la parte che si poteva mettere in un determinato modo lì vi posso dire una cosa è molto bravo Simone Inzaghi è molto bravo all'Inter a riprenderla subito perché la particolarità importante ma molto importante di Allegri è che Allegri ti tesse la tela mentre tu è come un ragno Allegri cioè mentre tu non ti stai rendendo conto lui è lì che trick track trick track quando ti rendi conto sei già nella tela del ragno ok quindi l'1-0 ti poteva poi portare a fare una partita in cui budubum 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 primo per goio famo budubum budubum per goio famo poi però arrivavi al 94 e siamo vergognati hai fatto tre fischi e tutti a casa questa era la partita che poteva fare Allegri e invece l'Inter è brava perché l'Inter realisticamente dopo quanto riprende il vantaggio della Juventus dopo tre minuti, quattro minuti, cinque minuti forse cinque minuti ecco credo cinque minuti ma siamo lì e la riprende grazie ad una rapida azione costruita con Marcus Turam il solito Marcus Turam che ormai mette sempre più uno più uno agli assist più una marea per Lautaro Martinez che si fa trovare pronto la butta dentro ed è il gol del pareggio aspettavamo Lautaro Lautaro ha risposto presente aspettavamo Dujan Vlaovic Dujan Vlaovic ha risposto presente e questo secondo me è abbastanza fattuale la cosa che mi ha stupito e forse questo un pochino perde di quello che poi è stato il passato del derby d'Italia però va bene anche così nel senso è bello anche vedere rispetto tra le due squadre è che è stata una partita molto molto corretta lo dice anche Marelli dice partita veramente corretta l'arbitro non è che abbia bisogno di grandi manovre per prendere per rimettere in piedi la partita e non me l'aspettavo mi aspettavo una partita cattiva da una parte e da un'altra una partita rabbiosa lamentele proteste quello e quell'altro invece per quasi tutta quasi tutta la partita è stata molto molto corretta e si è protratta al termine aspettavamo Nicolussi Caviglia che ha fatto una gara sufficiente sufficiente tra l'altro lanciano dal primo minuto non era scontato per niente che potesse che riuscisse a fare bene anzi credo che fosse piuttosto difficile ipotizzarlo per un ragazzo della sua età e invece ha fatto abbastanza bene Nicolussi Caviglia ha perso qualche pallone da broccolo però però regà c'ha comunque pochi anni è giovane quest'anno Allegri ha fatto fa 10 minuti in tutto il campionato ora tu lo butti il titolare nel derby d'Italia qualche pallone l'ha perso però poi effettivamente il grosso modo è sufficiente poi ne parleremo domani nel caso nelle pagelle e al suo posto poi entra entra Locatelli la differenza comunque è quella lì che comunque anche la Juve i panchinari ce li ha mette Alexandro mette Milik mette Ken mette Locatelli ma al posto di Nicolussi Caviglia sarebbe stato il titolare Locatelli e la differenza è che l'Inter leva Di Marco che è un super titolare per mettere Carlos Augusto leva Dunfriis per mettere Quadrato leva Barella per mettere Frattesi leva Durán per mettere Arnautovic ecco l'Inter questo anno secondo me se non dovesse riuscire a vincere lo scudetto lo ripeto lo ripeto lo ripeto perché lo penso farebbe veramente un grande patatrack questo è il mio punto di vista fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto finisce quindi 1-1 la gara di Torino e classifica alla mano la Juventus resta seconda a 30 l'Inter a 32 nel frattempo il Milan è a 26 meno 4 dalla Juve meno 6 dall'Inter questa è la classifica in questo momento al termine mancano due partite ma ci siamo della tredicesima giornata di campionato bocce la lalla ciao